Rocco Braz nel cespuglio, nel cespuglio Il maestro reagisce a Fedez che canta magnifico Aspetta, questo è bello perché poi Rocco Braz lo clippa e facciamo un video infinito Hai capito? No, io non canto No, ma non devi cantare Lo possiamo vedere solo al finale Perché allora, questo è il maestro reagisce a Fedez che reagisce a lui E adesso noi facciamo Fedez e Chiara reagiscono al maestro che reagisce a Fedez e Chiara Capito? Wow Vedi, l'ha apprezzato il maestro, guarda, guarda Guarda le pover Come fa? Wow Possiamo riguardarlo come se fosse tipo una diapositiva di famiglia Voglio se al momento mi appartengo ad amore Ok Che onore Bellissimo Bellissimo, bellissimo Ok Rocco Braz nel cespuglio Che vede nel parchetto Mentre spaccio cocaina Alla mia vicina Che la metto a pecorina Ciao